E ora l'attualità da Carmagnola, l'intervista alla sindaca Ivana Gaveglio sul tema delle scorie nucleari. Ci sono delle aperture in questo senso e degli spiragli di ottimismo. Da Roma arrivano buone notizie per i territori del Carmagnolese e del Calusiese. Il Parlamento ha approvato una mozione congiunta presentata dai parlamentari di Lega, Forza Italia, PD, Leo e altri gruppi di maggioranza che pone le basi per l'allontanamento dell'individuazione del deposito unico nazionale di scorie nucleari sia nel canavese sia nel carmagnolese. Tra i criteri di esclusione per l'individuazione del deposito, la mozione indica le aree agricole di particolare rilevanza e pregio dei siti diventati patrimonio unesco e l'indice di pressione ambientale. I sindaci di Mazzè, Caluso, Rondissone e Carmagnola, aree in cui la Carta Nazionale aveva individuato aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale, valutano come positivo il documento. Da Parlamento una volta tanto arrivano buone notizie rispetto alla salvaguardia dei territori e dei prodotti locali come il vino e erbaluce sulle colline di Caluso, delle nocciole coltivate tra Caluso e Mazzè e il peperone di Carmagnola. Ecco in proposito l'intervista a Divana Gaveglio, sindaco di Carmagnola. Martedì scorso il Parlamento ha presentato, discusso e votato all'unanimità una mozione che impegna il governo a prendere in considerazione con molta attenzione la localizzazione del deposito di scorie nucleari. In particolare sono stati definiti 21 punti su cui il governo dovrà porre molta attenzione e siamo molto soddisfatti di questo lavoro perché è una risposta alle istanze che in Carmagnola in particolare e i territori limitrofi perché sono interessati anche essi alla localizzazione di questo deposito hanno portato avanti con i loro rappresentanti locali delle istituzioni. Ci hanno ascoltato e hanno costruito un documento che ci garantirà quantomeno la possibilità di discutere durante le fasi del seminario nazionale, dopo luglio quindi, tutta la parte relativa alle criticità che sono legate al nostro territorio.